Bene, andiamo. Di qua. È vicina? Non proprio. No, è al sicuro. Niente ambra, niente pa. Matalo. Che cosa... che cosa succede? È un'allucinazione. Non tornare. Che cosa succede? 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 L'ambra, l'unica cosa che conta. Finisci la tua piccola gita e portamela. Che cosa succede? Che cosa succede? Devastations. Don't mind. Veloienti. Melati. Velo account. Velo... E' troppo pericoloso Devo liberarmi delle catapurte E' troppo pericoloso 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 Senza rancore Quasi fuori da qui La chiesa dovrebbe essere poco più avanti Pericoloso Buonanotte Buonanotte Pericoloso Pericoloso Che accoglienza Pericoloso 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 C'è una bella folla qui. C'è una bella folla qui. C'è una bella folla qui. Troppo facile. C'è una bella folla qui. Questa via promette bene. Questa via promette. Questa via promette. Buonanotte. Buonanotte. Bene, ecco la chiesa. Buonanotte. 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 Ho messo benvenuta Ho ancora degli oggetti che potrebbero interessarti È stato un ottimo affare Niente male Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti, mia cara Mi raccomando, trattalo con cura, mia cara Non vuoi proprio lasciarmi in pace, eh? No 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 Sì, sì. Sì, sì. È da questa parte. Mi serve una traccia di Luis. Almeno il loro libro sacro non sembra male. Vo... La mio caro... Cosa abbiamo qui? L'avranno portato... Cosa abbiamo qui? Non vi arrendi 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 Si mette male Non vi arrendi Non vi arrendi Non vi arrendi Non vi arrendi E' la sua frequenza. Buonanotte. Acaraglia! E' il final! Hm. Sei un osso duro Sì, sì, sì. Finalmente. 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 ci siamo a 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 Mi corpo! Oh! Oh! Puedo caminar! Uff! What? Ah! Hm. Ah! 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 Grazie a tutti. 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 Ma che diavolo è? Grazie a tutti. Oh... 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 Se continua così distruggerà tutto. Oh... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco l'inchiostro. Ci vediamo, Leon. Il cancello e il gong hanno lo stesso simbolo. Piuttosto facile. Ah, ho un brutto presentimento. Ma chi pensa a queste cose? Ah, ho un brutto presentimento. Bene. Bene. Adesso cerchiamo il secondo. Ah, ho una carappola. So già che succederà. Ah, ho una carappola. 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 Sì. Bene, ora ne manca solo uno. Guarda i miei nuovi articoli, straniera. Ti piaceranno. Benvenuta. Ho delle novità tutte per te, mia cara. Bene, che posso fare per te? È stato un ottimo affare. Fai buon viaggio. Questa è stata un po' di più. Questa è stata un po' di più. Questa è stata un po' di più. Questa è la mia. Sì. Dove sono tutti gli altri? Ma non potevi farti i fatti tuoi? Quella voce... Che succede? Eccoti lì. Ecco, un regalo. La mia testa... Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Su, torna qui. Troppo facile. Finalmente. Adesso posso passare. Che succede? 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 Bene così. Che succede? 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 quella voce va bene abbiamo ancora un conto in sospeso da regolare Corazón, corazón Buonanotte. 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 Questa è la sala della collezione. Luis all'ambra. Devo trovarlo. le impronte di luis deve essere andato da questa parte un'altra parte Alla prossima Andiamo giù. Che cos'è? Che cos'è? E' un alveare. Non mi sembra affatto un buon segno. Non di nuovo. Non mi sembra affatto un buon segno. 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 Così risolvo il problema dell'acqua. Spero. Buonanotte. Non mi sembra affatto un buon segno. Non mi sembra affatto un buon segno. Buon segno. Buonanotte. non mi sembra affatto un buon segno. 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 Sì, sì. No, no, no. Mamma mia. Yeah, incredibile. Attimo lavoro. Benvenuta. Ho ancora degli oggetti che potrebbero interessarti. Fata ben fatto, straniera. È stato un ottimo affare. Niente male. Allora, c'è un'arma in particolare a cui vuoi dare una bella lucidata? Facci sapere quando hai deciso. Ah, ho la schiena a pezzi. Siamo invecchiati ormai. C'è poco da sapere. Oh, sapevo che questa sarebbe stata la tua... Ecco a te, come desideravi. Quindi questa è la tua... Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti, mia cara. Provala e vedi come va. Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti. Provala e vedi come va. È stato un ottimo affare. Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti, mia cara. Spero vivamente di rivederti presto, stran... Benvenuta, straniera. Ci sono tante altre cosette interessanti, mia cara. I tuoi... Fa come pre... Benvenuta. Ho delle rarità da offrirti. È stato un ottimo affare. Tutto per te, straniera. Cerca di non... Fare una brut... Da fine. Benvenuta. I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba. È stato un ottimo affare. Tutto per te, straniera presto. Sto a tro... Tutto per te, straniera. Non so, come chi conhe sebagai fare. Scaliera gli animali. Immagra浜. Che pe社i portano. Ok. Grazie per te Grazie per le indicazioni, Luis Grazie per te Grazie per te Grazie per te Grazie per te E' stato un ottimo affare Questa merce non è sempre disponibile, straniera Tutto per te, stran... Dai, buon viaggio Va vicino Devamono Grazie per te Tocca a me Grazie per te Grazie per te Non proprio quello che mi aspettavo Grazie per te Non puoi scappare Non puoi scappare Grazie per te Mi spiace... Mi spiace... L'ambra, Luis... L'ambra, Luis, dov'è? Sembra abbia bisogno di me... Leon! 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 Ora... Ora... Devo raggiungere... Grazie per te Non puoi essere così veloce... 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 Sei impressionata... Vero ? Ha ha ha... La nostra maestria non lascia indifferenze... Grazie mille Mi fai tanti altri acquisti Buonanatte Grazie mille 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 Grazie mille